Ehi, quanto tempo, YouTube, ciao, come state? Io abbastanza bene. Questo video è una confessione, vi spiego anche un po' perché non sono stato presente quest'ultimo periodo su YouTube. Poco è un po' sto video, infatti, penso che avete visto, mi sembrava giusto dirvelo. È una cosa che volevo tenere in segreta, però a questo punto ormai alcuni già se ne sono accorti nei commenti, ogni tanto me lo dite. Ebbene sì, è vero, avete ragione che l'ha scoperto, io sono grasso. Grazie.